Non si muoveva a foglia senza il consenso di Nicolino Grandiaracri, che aveva creato una cellula di Indrangheta con una propria autonomia operativa che andava ben oltre il territorio di Cutro, estendendo i propri tentacoli anche in Emilia Romagna. Una cosca di Indrangheta che però non è sfuggita alle procure di Catanzaro, di Brescia e Bologna e che ha portato stamattina ad una vasta operazione seguita dai carabinieri con l'esecuzione di un centinaio di fermi, 37 dei quali soltanto in Calabria. I particolari dell'operazione sono stati illustrati in conferenza stampa dal procuratore capo della DDA di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, dai comandanti provinciali di Crotone e di Catanzaro, Francesco Iacono e Ugo Cantani. Dalle indagini è emerso anche come la cosca di Nicolino Grandiaracri, almeno sino al momento del suo arresto, avvenuto nel 2013 per una tentata estorsione ad un villaggio turistico, stesse assumendo il ruolo di punto di riferimento delle cosche di tutto il distretto giudiziario di Catanzaro, che comprende anche le province di Crotone, Cosenza e Vibo Valencia. Ma con contatti anche con le cosche del Regino Grandiaracri, ha detto Lombardi, si atteggia a capo di una struttura al di sopra dei singoli locali.